Salute ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video unboxing Solo in questo periodo un po' li avevo trascurati Che sono usciti moltissimi gameplay Ma ovviamente gli unboxing sul mio canale non possono mancare E oggi per tornare con questi video Farò un unboxing molto particolare Qui dentro, come vedete io ho già aperto la scheda Perché non mi ricordo effettivamente cosa dovessi contenere Qui dentro ci sono degli oggetti particolari Alcuni più interessanti Che mi sono stati gentilmente offerti Io ringrazio tantissimo tutte le aziende dei prodotti che verranno visti in questo video E adesso ragazzi vi mostrerò a voi degli accessori fantastici Allora iniziamo inizialmente da questo Ok, il fatto come è così Questo ragazzi è un vetro temperato per iPhone 7 Molto molto buono Molto molto resistente Ne ho già provato uno che avevo acquistato tempo fa E poi loro hanno deciso di offrirmene anche uno E allora conosco già questa marca Vi so dire che è ottio E molto molto resistente E ovviamente queste per iPhone 7 Ci sono anche per altri iPhone Non mi perdo in tempo su questo semplice vetro temperato Perché ho tanti belli oggetti Andiamo avanti Qui ragazzi abbiamo Senza evitiamo di romperlo Un bellissimo smartwatch Che adesso andiamo ad aprire Prendiamo il mio fedele taglierino Ok Questo anche mi è stato gentilmente offerto Dovrebbe essere migliore rispetto a quelli che ho unboxato Un qualche video fa Che erano dei semplici braccialetti smart Questo dovrebbe essere più uno smartwatch Perché lo schermo è più grande Qui non l'ho aperto Ok Lo schermo dovrebbe essere più grande E dovrebbe funzionare anche meglio Perché già uno di quelli non funzionava Cioè non funziona già più bene L'altro devo dire Quello che faceva il monitoraggio del polso Del battito cardiaco andava meglio Allora Qui dentro non abbiamo niente ragazzi Per caricarlo Spostiamolo Ok Allora intanto il celturino è diverso Già si può vedere È leggermente meglio rispetto a quell'altro Ho anche questo Il monitoraggio del battito cardiaco Lo faccio vedere qua sotto Vediamo se è carico Ok È in carica È veramente scomodissimo ragazzi Da caricare Questo Soprattutto nel power bank Vediamo se riesco ad accenderlo Sì 5 4 3 2 1 E si spegne È molto scarico ragazzi Niente Non riesco Ecco qua già si vede meglio Niente Si scarica Comunque ragazzi È molto simile a quegli altri Ha le stesse funzioni Anche questo Notifiche Dei vari social Battito cardiaco Chiamate SMS Eccetera Sinceramente Mi ricordavo Che era più grande Ma in realtà Il quadrante è leggermente più largo Nulla di più rispetto all'altro Qui ha un piccolo pulsante Sempre touch Ovviamente E niente ragazzi È un semplice smartphone Ci proverò ad usarlo In questi giorni Vediamo Vi metterò qualche foto Su Instagram Però se non mi seguite ragazzi Trovate tutti i miei social In descrizione Se si comporterà bene Ve lo dirò Altrimenti vi dirò Che è semplicemente Un'altra Cinesata Adesso ragazzi Possiamo costruire Un pochettino più grosso E leggermente Un pochettino di fascia Più alta Qui abbiamo ragazzi Delle cuffie Da gaming Con microfono Sono le Supso 6800 Se vi ricordate In uno dei miei primi video Recensile Un paio di loro cuffie Che erano di fascia Molto più bassa Rispetto a queste E Sono Sono state Comunque Delle ottime cuffie Lo usate Avevano qualche cosa Che non mi piaceva Nell'estetica Andate a vedere Se queste Che vi dico già Sono fasce È una paio di cuffie Un pochettino più alta Perché queste Costano circa 80 euro Trovate comunque Tutti i link In descrizione Ma sicuramente Nella fascia Leggermente più alta Il design è molto bello Da quello che posso vedere E Vediamo Come si comporteranno Magari Farò qualche Farò un video recensione Di queste Come sapete Ormai mi sono dato Anche alle video Recensioni Quindi magari Leggerò anche Una recensione Allora Già vedo qua Qualcosa di enorme Ragazzi Assurda Questa è enorme Veramente Che cazzo è questa cosa Guardate che controller Allora È enorme Obiettivamente È enorme Allora Per la più di fortuna Abbiamo solo un controllo Tutto usb Un simpatico Fermafili Così È questo Telecomando enorme Che è È fighissimo È veramente figo Però è enorme Però abbiamo la possibilità Di accendere I led Volume più Meno Più Meno Abbassare Ah no Mettere mudo Mettere mudo Il microfono E l'equalizzatore Allora È fighissimo È enorme Ma è fighissimo Queste cuffie Belle Obiettivamente Sono belle Ragazzi Non si può dire niente Queste cuffie Sono bellissime Sono leggere I giuro Sono leggerissime In testa comode E appena le indossate Praticamente Questi qua Vi sono da tutto Sono bellissime Vediamo se riesco A mettere nel power bank Per farvi vedere I led Tutto qui Ok ragazzi Qua ci sono i led Il telecomando Pure a led Ragazzi Guardate Si accende Qua possiamo cambiare La colorazione Bellissimo E poi qua Mettiamo mudo Pre tutte cose Sono delle cuffie Fighissime Il materiale Sembra veramente Ottimo Assolutamente E anche il microfono Bello Questo È molto morbido Mamma mia Veramente Veramente Fighe Queste cuffie Se la qualità Dell'audio E la qualità Del microfono Saranno elevate Queste cuffie Meriteranno Il loro prezzo E adesso Andiamo per finire Con la perla Di questo video Perché qui ci sta Un bel salto di qualità Sul mio canale Io ringrazio tantissimo La Drevo Per avermi dato L'opportunità Di avere questo prodotto E mi hanno mandato Un ssd Ragazzi Si Effettivamente È il primo Vero grande prodotto Di informatica Di computer Di gaming Definito come volete Che mi sono gentilmente Offerto Questo è un ssd Ora io Lo apro Ovviamente Perché non vedo l'ora Sono solamente Ragazzi 64 giga Ovviamente Però È il primo La prima Grande Collaborazione Con un prodotto Di informatica Di computer Anzi Meglio puntualizzare Di computer Perché ho fatto Tantissime altre collaborazioni Ma Diciamo che Per riguardarsi Il mondo Dei computer Se non sbaglio Non avevo avuto Neanche Mai l'occasione Fino ad adesso Adesso si Guardate Bellissima apertura Sembra qualcosa Ovviamente Wow Prezioso Esteticamente Ragazzi È Fighissimo Vedete È piccolissimo 64 giga Drevo L'X Pro 1 Ragazzi I test Ve li farò avere Su Instagram O su una recensione Perché di questo Farò assolutamente Il video recensione La Recensione Avrò anche I test Bench Anche sì Questo Lo vado a rimettere No non era qua dentro Questo Quindi non lo metto Lo vado a riconfezionare E io ringrazio tantissimo La Drevo E ragazzi Io Credo Che ci sarà la possibilità Di fare altre collaborazioni Con questa azienda E se tutto va bene Non posso dirvi niente Ma arriverà qualcosa Di veramente Figo O almeno Spero Se tutto va Come deve andare Ringrazio tantissimo A tutte queste aziende La Drevo La Suzzo La 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 Wildful La Ponus Che mi hanno fornito Tutti Tutti Questi oggetti Ve ho temperato Cuffie Smartwatch Hard Disk L'hard disk Ragazzi è piccolo Ma so già Dove utilizzarlo Vedete una foto Su Instagram Perché userò Un oggetto Che avevo recensito In uno dei miei primi video Quindi Che dire ragazzi Se questo video vi è piaciuto Mettete un bel mi piace Iscrivetevi al canale Condividete il mio video Ringrazio tantissimo Tutte le aziende presenti In questo video E niente Ci vediamo Ad un prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti